dai vai la giochi da dietro dentro la porticina ma la giochi vieni fuori dalla porticina e fai una bella raccolta ok e vai dietro dai nico buono vieni lì ok bravo no te serve a te adesso eh ok gira un po di più nico un po di più le punte dei piedi eh ok vieni veloce ti puoi anche spostare serve a te hai vinto un viaggio stavolta vediamo se ti svegli sbagliato eh sì tra l'altro non me l'hai neanche data quindi viaggi viaggi per tutti nico ti puoi anche spostare te l'ho detto eh se io sbaglio tu ti devi adattare ok mi fate anche con l'altra gamba che state facendo sempre con la stessa fermo 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 se non giri se non giri la punta dei piedi ti fai male le caviglie quindi devi girare tutte e due le punte dei piedi ecco da questa parte e adesso vai giù da questa parte vai giù dico da questa parte come me gira le punte dei piedi qua e vai giù così ok così però eh ok fa la ballerina eh vai vai gabri arriva sempre dopo il martedì mamma mia nico che roba bruta eh concentrati gira i piedi perché stai facendo di quelle robe piano mettiti a posto posizione da portiere oh già però con due mani eh già questa era un pochino meglio eh poi sempre il piede dritto quello di fronte eh diciamo che vi sistemate io ve la do almeno abbiamo più tempo per vedere ok sistemati fuori posizione da portiere ok dopo me la fai con l'altra gamba eh anche tu cambia gamba ok cambia gamba eh buono bravo questa no avevi la gamba dietro eh va bene va bene quando è laterale quindi devi fare un passettino prima eh che ti da posto ok che era chi ha cominciato per primo ok vieni ok fermo fermo